Allenamento completo per braccia e spalle con pesetti, due blocchi di lavoro a tempi crescenti per migliorare la forza e la tua tonicità. Iniziamo! Ok, iniziamo! Skip più rotazione oraria o rotazione in avanti, testa dritta, sincronizza il movimento parte alta e parte bassa, skip la parte bassa, movimento orario in avanti. 3, 2, 1, cambio, allargo le gambe, tocco le spalle e stendo le braccia, vai! Respirazione, scaldiamo tutto il corpo prima di iniziare questo super workout, vamos! Ancora qualche secondo e passiamo alla torsione del tronco, 3, 2, 1, allargo ancora le gambe, torsione del tronco, senza forzare attiviamo il tronco, respiro. Naso, bocca, vai! Ancora! Esercizio successivo, skip, incrociato, gomito ginocchio. 3, 2, 1, vai! Skip incrociato, gomito ginocchio, vai! Respiro, incrocio, gomito ginocchio, vai! Esercizio successivo, pectoral più spinte, senza peso, 3, 2, 1, allargo le gambe, movimento pectoral e spinte. Scaldiamo bene tutta la parte alta, spalle, braccia, petto, vai! Gomito in linea con le spalle, respiro, 3, 2, 1, cambio! Spinte frontali, senza peso, testa dritta, scaldiamo bene tutto il corpo, vai! Sempre respirazione su ogni esercizio, respirazione naso e bocca, vai! 3, 2, 1, recupero attivo, iniziamo subito il nostro workout, piego le gambe, bicipite, martello destro, isometria sinistra. 3, 2, 1, isometria sinistra, bicipite, martello destro, vai! Un braccio, isometria, l'altro braccio lavora, vamos! Piego leggermente le gambe, ancora 3, 2, 1, appoggio i pesi a terra, ci prepariamo per il pugno incrociato. 3, 2, 1, pugno incrociato, vai! Lavoro sulle gambe, addome contratto, testa dritta, mantengo il ritmo veloce, pam, 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 vamos! Butto fuori tutta l'aria, ancora 3, 2, 1, recupero attivo, ritorniamo, bicipite, martello, più isometria, posizione, 3, 2, 1, isometria del destro, lavoro col sinistro, vai! Testa dritta, piego leggermente le gambe per non scaricare sulla schiena, utilizzo un pesetto che mi permette di lavorare senza compromettere la tecnica. 3, 2, 1, appoggio a terra il peso, ci prepariamo un ginocchio su e un pugno. 3, 2, 1, vai! Ginocchio su e pugno, ginocchio su e pugno, vai! Pam, 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 respiro, pam, ancora, pam, pam, fino alla fine, 3, 2, 1, recupero attivo, riprendiamo i pesetti, abbiamo il movimento pectoral, 3, 2, 1, gomiti in linea con le spalle, apro lentamente e chiudo lentamente, massima attivazione, spalle e pettorali, vai! Prendo aria e chiudo, 3, 2, 1, ok, appoggio i pesi, ritorniamo su un ginocchio su e un pugno, dall'altra parte, 3, 2, 1, vai! Pam, 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 vai! Sincronizza il movimento, vamos! Ginocchio, pugno, ginocchio, pugno, vai! Vai! Ancora, non ti fermare, 3, 2, 1, recupero attivo, riprendiamo i pesetti, vai! Vai, alzate laterali, gomito a 90, 3, 2, 1, vai! Gomito a 90 gradi, le braccia sono in blocco e salgo con il gomito verso le spalle, vai! Attiviamo le spalle, deltoidi, 3, 2, 1, recupero attivo! Ancora, pugno incrociato, rimaniamo in posizione, 3, 2, 1, vai! Lavoro sulle gambe, spostamento della gamba, pugno, addome forte, mantengo il ritmo, vai, vai, vai! Non ti fermare, ancora, qualche secondo, 3, 2, 1, recupero attivo! Bicipite e martello alternato con rotazione! Lavoriamo in modo alternato, destra e sinistra, bicipite e martello con rotazione! Bene, piego leggermente le gambe, 3, 2, 1, vai! Salgo, rotazione, salgo, rotazione, respiro! Manteniamo il ritmo, utilizziamo un pesetto che ci permette di lavorare, che sentiamo il lavoro, ma non ci va a compromettere la tecnica! 3, 2, 1, appoggio il peso per terra, ci prepariamo a 3 torsioni e pugno, 3, 2, 1, posizione di mezzo squat, torsione e pugno, vamos! Respira, vai, vai! Addome forte, respirazione, piego le gambe, ancora, vai! Buttiamo fuori le energie, 3, 2, 1, recupero attivo! Prendiamo un pesetto soltanto per tricipite doppia mano, 3, 2, 1, posizione, piego leggermente le gambe, gomiti vicino alla testa, salgo e scendo! Controllo il movimento, utilizzo un pesetto che mi permette di fare l'esercizio in modo pulito, ancora, 3, 2, 1, recupero attivo, appoggio! Ci prepariamo, torsione più tocco ginocchio alternato, 3, 2, 1, mano sulle tempie e vai! 1, 2, 3, 4, 5, respiro, salgo bene con il ginocchio, vai! Sali, sali, gomito ginocchio opposto, respira! Ancora, 3, 2, 1, recupero! Bicipiti a martello continui, uno dietro l'altro che si susseguono, allarghiamo le gambe, larghezza spalle, gomiti vicini al corpo, 3, 2, 1, vai! Uno dietro l'altro, respiro, testa dritta, dome forte, vai! Attiviamo le braccia, ancora qualche secondo, pam, pam, pam! Portiamo il pesetto verso la spalla, ancora, respiro, vai! 3, 2, 1, recupero attivo, appoggio i pesi, ci prepariamo il passo incrociato dietro, senza salto, 3, 2, 1, vai! Senza salto, incrocio dietro, baricentro in avanti, braccia in avanti, incrocio e incrocio, incrocio e incrocio! Vamos! Ancora! 3, 2, 1, recupero attivo, rematore, prendiamo i pesetti, posizione, 3, 2, 1, vai! Vai! Mantengo la posizione, non inarco la schiena, schiena e torso blocco, e lavoro solo con le braccia, vai! Vai! Ancora 10 secondi, piego le gambe, larghezza delle spalle, vai! 3, 2, 1, recupero attivo, appoggiamo i pesetti, e ci prepariamo allo skip incrociato, 3, 2, 1, vai! Allargo le gambe, e salgo bene con il ginocchio, sali, sali, fai lavorare le gambe, su, vamos! Sali bene, respiro, ancora 3, 2, 1, recupero attivo, prendiamo i pesetti, alzata laterale, alternato in iso, 3, 2, 1, da questa posizione, da una parte, e poi dall'altra, da una parte, e poi dall'altra, importantissimo, piegare leggermente le gambe, addome contratto, testa dritta, prima da una parte, e poi dall'altra, vai! mantengo i gomiti a 90 gradi, 3, 2, 1, recupero attivo, rimaniamo sempre in movimento, e ci prepariamo al pugno incrociato, 3, 2, 1, vai! Pugno incrociato, respiro, mantengo il ritmo, non mi fermo, vai, 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 ancora, ancora, 3, 2, 1, recupero attivo, ancora pesetti, passiamo ai bicipiti alternati, 3, 2, 1, vai, gambe leggermente piegate, testa dritta, gomito vicino al corpo, bicipiti alternati, salvo prima con uno, e poi con l'altro, vai, respirazione, mantengo il ritmo, 3, 2, 1, recupero attivo, appoggiamo un pesetto, andiamo a fare il tricipite a un braccio, 3, 2, 1, vai in appoggio, blocco il gomito, lavoro con un braccio solo, l'altro braccio in appoggio sul ginocchio, che mi aiuta e mi sostiene anche la schiena, vai, vai, 10 secondi, 10 secondi, respiro, ancora, non ti fermare, 3, 2, 1, recupero attivo, ci giriamo dall'altra parte, stesso esercizio, 3, 2, 1, vai, blocco il gomito, vado indietro col braccio, il braccio che non lavora, si appoggia sul ginocchio per sostenere la schiena, vai, ancora, 3, 2, 1, riprendiamo l'altro pesetto, abbiamo il martello più spinte, 3, 2, 1, martello più spinte, vai, controllo il movimento, separo bene il movimento, ancora, vai, 5, 4, 3, 2, 1, appoggio i pesetti, rimaniamo sempre in movimento, e ci prepariamo al pugno incrociato, 3, 2, 1, vai, pugno incrociato, lavoro sulle gambe, addome forte, testa dritta, vai, vai, respiro, dai, 20 secondi, mantieni il ritmo, non ti fermare, veloce, pam, 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 vamos, e respiro, ancora 10 secondi, dai, lavora sulle gambe, addome, forte, pam, 3, 2, 1, recupero, ora, iniziamo la parte di defaticamento e stretching, iniziamo con l'esercizio successivo, mobilizzazione della colonna, andiamo in posizione, piccole gambe, 2, 1, vai, in arco e in curvo, in arco e in curvo, respiro, la testa singolo, movimento naturale, la schiena, vai, 3, 2, 1, stretching, spalla destra, braccio teso, tengo giù la spalla, spalla depressa, respirazione, 10 secondi, e cambiamo lato, andiamo dall'altra parte, braccio sinistro, 3, 2, 1, stretching, spalla sinistra, vai, mantengo la posizione, spalla giù, 10 secondi, e abbiamo lo stretching del tricipite, 5, 4, 3, 2, 1, sciolgo, nell'altro braccio andiamo dietro, senza forzare, assistenza sul gomito, mantengo la posizione, e respiro, vai, 3, 2, 1, sciolgo, l'altro braccio dietro, senza forzare, assistenza, sul gomito, mantengo la posizione, respiro, 3, 2, 1, l'ivaricata frontale, allargo bene bene le gambe, scendo frontalmente piano piano, dove arrivo, mantengo la posizione e respiro, se non riesco ad arrivare completamente a terra, non è un problema, mantengo la posizione, respiro senza forzare, man mano che andiamo avanti acquiseremo l'elasticità che ci serve, 3, 2, 1, e risalgo, ci siamo, il tuo allenamento è finito, sempre in forma con fix fit, vamos! Tanto toccaloria mi dice, toccaloria mi dice, Autore dei sorrisi